Buongiorno e ben trovati a questo ultimo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa. Iniziamo subito dalla lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali abruzzesi. Iniziamo dal centro che andiamo a vedere nella edizione di Pescara per prima. Sosta vietata, le multe si fanno dal bus e il titolo di apertura. I vigili urbani salgono sui pullman della tua per fotografare le auto che intralciano il traffico e contro l'accesso selvaggio al terminal il Comune annuncia l'arrivo di una telecamera. Prima di proseguire andiamo sui temi nazionali perché nel taglio alto il centro dà risalto alla sentenza di Palermo sulla trattativa Stato-mafia condannati Mori, Dell'Utri e Ciancimino e poi verso il governo Berlusconi strappo definitivo con Di Maio. Nell'editoriale del direttore del centro Pietro Anchino il titolo Restituiamo dignità alla scuola, una riflessione sugli atti di bullismo che stanno caratterizzando questo 2018 della scuola. Torniamo invece alle notizie dalla nostra regione, andiamo nello spazio delle crona che a Pescara rubano bici e speronano i carabinieri inseguiti a forte velocità lungo la Tiburtina speronano i carabinieri poi tentano la fuga a piedi ma alla fine vengono arrestati. A Montesilvano creme sbiancanti sequestrate 650 confezioni da parte della Guardia di Finanza e poi il Pescara Campagnaro si fa male ancora a stagione finita per il difensore bianco-azzurro. A centro pagina andiamo a vedere la fotonotizia il comico Vincenzo Livieri gira un video con gli studenti l'iniziativa dell'Istituto Acerbo di Pescara. Ancora tasse, il TAR nega la sospensiva all'Aquila, niente provvedimento, c'è già la proroga di 4 mesi. Nel taglio basso le prime analisi dell'Arta, mare, ecco i divieti in Abruzzo, sono 12 punti interdetti tra divieti temporanei e divieti permanenti ma c'è una prova d'appello. E poi fondi all'Abruzzo, aeroporto pista più lunga per i voli oltre oceano con fondi ricavati dal Masterplan e ancora l'economia, Banco BPM incontra le imprese abruzzesi. Restiamo sempre sul quotidiano il centro, andiamo a vedere adesso le altre edizioni provinciali, questa è la prima pagina dell'edizione aquilana. Tasse, il TAR non c'è l'urgenza, i giudici amministrativi non concedono la sospensione alla riscossione perché c'è la proroga di 4 mesi, la partita ora si sposta nelle stanze della politica, riunione d'urgenza alla regione per analizzare il risultato. Le altre notizie, andiamo a vedere a centro pagina nella fotografia l'Aquila a scuola in lutto, addio Fainella, preside grande elettrice di Ciampi. E poi oggi il corteo antigasdotto a Sulmona scatta la mobilitazione contro la centrale della Snam. Nelle cronache a Trasacco, insegnante, muore a 36 anni donate le cornee. Si è spenta Lidia Cilli, 36 anni di Trasacco, dopo una malattia i familiari hanno assecondato un suo preciso desiderio e sono state donate le sue cornee. E poi dal capoluogo Telefonino alla guida, 30 sono stati multati e ancora Gran Sasso in pianti aperti per il giro. Continuiamo con la lettura del centro, andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione Teramana. I santoleri rimangono in carcere, il titolo di apertura, pittrice uccise, il tribunale del riesame respinge il ricorso del marito e del figlio accusati di omicidio e gli avvocati dei due arrestati. Nessuna sorpresa, ci aspettavamo questo provvedimento. Andiamo a centro pagina, Teramo, tragedia sfiorata in via Po, ciclista cade per una buca e rischia di essere travolto. Poi ritroviamo la notizia della Tarra che nega la sospensiva sulle tasse Aquilane, ancora muore a 47 anni a un mese dall'incidente e la notizia che apre lo spazio delle cronache di spalla che arriva da Villarosa. Andiamo a leggere meglio, l'operaio di Ascoli era stato travolto in via Roma nel centro di Villarosa dallo scooter guidato da una quarantenne di Alba e non si era mai ripreso, la procura ha disposto l'autopsia. E poi nuovo bando a Teramo, strisce blu, restano solo nove posti di lavoro. E poi ancora a Pineto c'è crisi, si svuota la zona industriale di Scerne. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Chieti-Lanciano Vasto, sempre per Il Quotidiano e il Centro. Strade di sangue, due morti e il titolo di apertura scelto per questa prima pagina, incidenti a Chieti-Scalo e Dorsogna, vittime a un cuoco di 50 anni e un autista di 44. Andiamo ancora nelle cronache a Chieti. Aggressione a una commessa, scatta l'arresto, scoperto l'autore dell'assalto a Lucia Rosticini e lo stesso bandito già accusato dei colpi a ripetizione nelle parafarmacie. La donna è stata spinta e poi colpita al volto. A Vasto, due ragazzine travolte sulle strisce a Lanciano, via del mare, si alle multe per sosta vietata. Andiamo adesso a Centropagina, San Salvo, Consiglio Comunale dei Ragazzi, gli alunni condannano il bullismo, ci vuole rispetto. Andiamo ancora avanti con le prime pagine regionali, adesso ci spostiamo sul messaggero Abruzzo. Il titolo di apertura, pochi divieti, mare sempre più blu, soltanto due tratti non balneabili a Pescara, un punto critico a Francavilla e un solo neo per Giulianova. I prelievi dell'Arta certificano la buona salute del 99% della costa. Le altre notizie, la neve di primavera, il gran sasso dalla crisi al record, si scia con il Giro d'Italia, impianti aperti fino a maggio. Scendiamo adesso a Centropagina, andiamo a vedere le altre notizie. Coppia negata nell'Orta, in due verso il processo, chiusa l'inchiesta sul sindaco di Caramanico e sul direttore del Parco Nazionale della Maiella. Giulianova e il delitto Rapposelli, Santoleri restano in carcere, riesame, ha rigettato la richiesta di scarcerazione. E poi farmaci pericolosi per sbiancare la pelle, nei negozi venivano presentati come cosmetici, in realtà di medicinali a tutti gli effetti si tratta, servono a sbiancare la cute, sono pericolosissime e importati illegalmente. Sono 5 i denunciati in questo maxisequestro messo a segno a Pescara. Andiamo a vedere adesso la notizia di spalla, dove troviamo il report, vediamo se riusciamo a ingrandire l'articolo, la stretta del credito penalizza gli artigiani. Questo è il titolo su questa notizia. Nel 2017, messo a segno o meno dell'1,2%, le aziende abruzzesi sono in affanno. E poi nel taglio basso la vittima è l'autista Orsogna, un morto nel bus dei disabili, 43 anni, è morto mentre lavorava dopo essersi ribaltato con un pulmino per disabili. Carlo Danteo, autista della società di trasporti Fratelli Napoleone, non ha avuto scampo alla guida del minibus aziendale, prima si è scantato contro un albero e poi è rimasto schiacciato sotto il mezzo. La tragedia è avvenuta ieri a Orsogna, sulla provinciale 538 Marucina. L'uomo tornava da Guardia Grele ed era diretto ad Ortona, dove a sede la ditta originario di città Sant'Angelo, Carlo viveva in contrada sarchese ad Ortona. Andiamo adesso nel taglio alto per le altre notizie. La lotta dell'Aquila, restituzione delle tasse, il Tar nega la sospensiva e poi Teramo, ticket i furbetti dell'esenzione spuntano, 1200 posizioni sospetti. Calcio, il guardia linea abruzzese, Juve Napoli tra Allegri, Sarri e lo Scudetto c'è elenito di liberatore. Sfida in chiave regionale, il collaboratore di linea oggi allo stadium nel match tra l'ex mezzala di Galeone e l'ex tecnico del Delfino. Andiamo avanti, sempre con le prime pagine regionali, andiamo a vedere la prima della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura, eccolo qui, moto rottamazioni truffa, 19 nei guai. Dopo 7 anni la procura chiede la condanna dei concessionari dello sfascia carrozze e dei clienti. Poi troviamo l'editoriale di politica di Patrizia Lombardi, il Molise non esiste e questo il titolo chiaramente sulle elezioni che ci saranno domani per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise. Andiamo adesso a centropagina per vedere la fotografia AAA, chirurgo, cercasi, sanità, sale operatori in emergenza per carenza di medici alla ASL Teramana. E poi ancora di spalla l'intervista primarie o corsa solitaria, oggi il giorno della verità per PD e Cavallari ci sarà proprio questa mattina una conferenza stampa. Martinsicuro muore un mese dopo l'incidente in scooter e ancora sale la febbre tra Teramo e Campli, basket domani il sentitissimo derby tutto bianco-rosso. Andiamo nel taglio basso dove troviamo il giallo della pittrice Renata Rapposelli, i santoleri devono restare in carcere secondo il riesame e poi l'anniversario, la Teramo di Brigotti non era poi così diversa da quella di oggi. Lasciamo le prime pagine regionali, passiamo allo spazio dedicato al nazionale, andiamo a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, in apertura la politica, strappo nel centro-destra, il sondaggio, la Lega avanza, la mediazione con i partiti rallenta il Movimento 5 Stelle, il leader di Forza Italia attacca il Movimento, l'ira del capo leghista Quirinale, due giorni di verifiche dopo il fallimento del mandato esplorativo al Presidente del Senato, Casellati. Andiamo a vedere il taglio alto adesso, per i giudici ci fu la trattativa Stato-mafia Berlusconi, realtà falsata, denuncio il PM, questo il titolo su quanto avvenuto ieri a Palermo e poi c'è l'editoriale di Dario Di Vico, crescono più di noi, la piccola lezione spagnola. Andiamo a vedere la Repubblica, in apertura il processo di Palermo, Stato-mafia, 12 anni a Dell'Utri, Salvini strappo con Berlusconi, i giudici di Palermo, la trattativa ci fu, questa la sentenza. Il Movimento 5 Stelle dice una pietra tombale su Forza Italia, prove di accordo con la Lega, quindi vedete la Repubblica mette in relazione quanto sta accadendo per la formazione del nuovo governo con questa importantissima sentenza. Qui vedete proprio uno scatto dell'esultanza degli attivisti di scorta civica e agende rosse ieri nell'aula di Palermo dopo la sentenza, il punto, la sentenza e il salvagente, è l'articolo di Stefano Folli. Nel taglio basso, altra notizia importante dagli esteri, la mossa di Kim, stop i missili, fermiamo i test atomici, Trump questa è una buona notizia che arriva dalla Nord Corea per l'appunto. Andiamo sulla stampa, il titolo di apertura di Maio Salvini verso il governo, lo scenario cambia per lo scontro Forza Italia-Grillini e il processo di Palermo, ma il Colle pensa anche alla carta a Fico, presidente della Camera. La Lega prepara la rottura con Berlusconi, gelo di Mattarella sul capo del Carroccio, la trattativa Stato Mafia ci fu condannati ex vertici del Rosso e dell'Utri, assolto l'ex ministro Mancino. Andiamo a vedere le altre notizie, andiamo a centropagina, Mogadiscio a bordo dei lince, tra clan e jihadisti, la lotta sarà lunga, qui c'è bisogno di noi con i soldati italiani sul fronte di Al-Shabaab. E poi troviamo l'editoriale di Mattia Feltri, le sfuriate di leader, azzoppati chiaramente il titolo e la riflessione riguarda quanto sta accadendo nella politica italiana. Andiamo adesso sulle 24 ore, il principale quotidiano economico e finanziario italiano ci pone un tema diverso in apertura. Trump apre il fronte OPEC, il presidente sfida il cartello, prezzo del petrolio, inaccettabile. Casa Bianca contro l'ipotesi di nuovi tagli produttivi, l'Arabia Saudita nega speculazioni, forti sbalzi del greggio. Poi il governo Mattarella, ultime 48 ore, Berlusconi contro i 5 Stelle, rischio rottura con la Lega, si avvicina sempre di più l'intesa Salvini 5 Stelle. Andiamo adesso a centropagina, l'industria nell'era digitale e qui vedete alcuni esempi, la Bonfiglioli, la Brembo e la Sanofi. Scendiamo ancora, parliamo di criptovalute, le criptovalute sono tassabili, i guadagni da trading possono generare un reddito diverso per l'agenzia delle entrate, le monete digitali sono oggetto di monitoraggio fiscale. Andiamo a vedere adesso il Fatto Quotidiano, titolo particolare sulla sentenza di Palermo, la trattativa c'è stata e Berlusconi è il suo profeta. Sentenza storica per il Fatto Quotidiano, state o mafia condannati a 12 anni, mori su Branni e Dell'Utri, il PM di Matteo Sancito è il legame tra le richieste di Cosa Nostra e il primo governo Berlusconi. Poi troviamo le consultazioni di Maio, Pietra, la tombale su Forza Italia e Salvini sta zitto. Il Colle non archivia i ladri di Pisa ma poi tocca a Fico e per i neosenatori il primo stipendio di 14 mila euro. Chi vorrà rivotare si chiede il Fatto Quotidiano. Andiamo sul manifesto adesso, anche qui il titolo riguarda il processo a Palermo, lo Stato a pezzi sulla fotografia dei PM di Matteo Tartaglia. La trattativa con la mafia c'è stata, la sentenza di primo grado condanna a pezzi delle istituzioni alti gradi dell'arma, boss di Cosa Nostra e Marcello Dell'Utri per attentato ai corpi dello Stato. Esulta il PM di Matteo che chiama in causa Berlusconi assolto l'ex ministro Mancino. Passiamo sul messaggero. Il titolo di apertura Berlusconi e Salvini divorzio vicino. Il Cavaliere apre al PD e attacca i 5 Stelle. A Mediaset pulirebbero i bagni. La replica amico dei boss, l'ira di Salvini, allora vai da solo e prepara l'intesa con Di Maio verso l'esplorazione di Fico. Andiamo a vedere la cronaca nella fotografia Arsaviva, orrore nel parco dell'Eur, il giallo della donna che viveva sola, Roma trovata da un uomo che faceva jogging, ho visto il fumo, ha raccontato e poi la trattativa Stato-Mafia, 12 anni a Mori e Dell'Utri. Andiamo ancora avanti. Il tempo, onore a Mori. Scrive Titola con questo grande carattere. Il tempo, trattativa Stato-Mafia, raffica di condanne nonostante manchino indizi e prove. Verdetto politico, la sentenza serve solo a spianare al 5 Stelle la via di Palazzo Chigi. Come vedete una posizione abbastanza fuori dal coro per il momento sul tempo. Mancino assolto al tempo, io crocifisso a suon di bugie. Andiamo a vedere adesso Libero, recita penosa fra partiti, ha vinto la scemocrazia, scrive il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Assistiamo alla commedia più lunga e noiosa della storia repubblicana, senza neppure guizzi o colpi di genio. E questi politici, che in realtà sono degli artisti sprecati, dovrebbero salvare la democrazia? Siamo disgustati. Berlusconi, Grillini, Puliscicessi, meglio il PD, Di Maio chiama Salvini. Mollalo e governiamo, questo è il sunto di Libero. Andiamo a centropagina, dopo 49 anni di detenzione i giudici rifiutano di scarcerarlo. Vallanzasca deve morire in prigione. Andiamo sulla verità, sulle trattative piomba anche la sentenza Stato-mafia. Berlusconi riapre il forno del PD ma a bruciare è il centrodestra. Il Cavaliere, Grillini e Ammeliasset pulirebbero i cessi, meglio i democratici. Ira di Salvini, così si sfila dalla coalizione, vado avanti da solo. Sepolta l'intesa che giovedì pomeriggio sembrava fatta, si va verso un governo a 5 stelle e Lega e forse Fratelli d'Italia. E poi l'esploratrice si è persa gli accordi per strada sulla fotografia del Presidente del Senato. Andiamo adesso nel taglio centrale. Fatture false dei Renzi per pagare il mutuo avrebbero usato l'ingiusto profitto ottenuto con tre paginette per saldare le rate di un finanziamento. Il secolo d'Italia, la foto che vedete è dell'ex Premier Renzi con l'ex Ministro Boschi. Piano segreto 5 stelle PD, secondo il quotidiano che fa riferimento a Fratelli d'Italia. Nel taglio basso, in primo piano, Meloni chiarisce no al PD, Maretta nel centrodestra. Stato-mafia la sentenza e assista al governo FICO. Francia schiava degli USA, così Assad umilia Macron. Andiamo adesso su Avvenire, il quotidiano cattolico, la mala trattativa, il titolo sulla sentenza di Palermo. Il Tribunale conferma in parte le accuse per i negoziati con la mafia dopo le stragi. Forza Italia querela il PM di Matteo, condannati boss, carabinieri del Rosso e dell'Utri, assolto Mancino, 5 stelle e una pietra tombale sul Cavaliere. Andiamo adesso nel taglio alto, perché troviamo il Papa Francesco come Don Tonino, il cristiano vive per gli altri, da Alessano a Molfetta, il Papa sulle orme del Vescovo Servitore, fattosi popolo. Questa è la visita in Puglia di Papa Francesco. Andiamo sul secolo XIX, il titolo di apertura del quotidiano genovese, Salvini Berlusconi e strappolite dopo l'attacco ai 5 stelle, lega verso il governo con Di Maio. Il leader di Forza Italia, i grillini disoccupati e sfaccendati, il carroccio, mai con il Partito Democratico. Andiamo a vedere anche il titolo del mattino, sono due chiaramente le notizie, come vedete anche graficamente in primo piano. La prima in apertura, Berlusconi e Salvini e rottura sul fallimento delle consultazioni e su quello che potrà accadere anche all'indomani delle elezioni regionali. e poi nel taglio alto Stato-Mafia, condannati Mori Dell'Utri e i boss, la sentenza sulla trattativa assolto Mancino, il PM di Matteo Sanciti, i rapporti con il leader di Forza Italia, la replica, il gravissimo, siamo pronti a querelare. Poi per le interviste del mattino, l'inferno è finito, ero io la vittima del grande teorema. Il teorema sono le parole dell'ex Presidente del Senato e Ministro dell'Interno, Nicola Mancino. Chiaramente c'è anche spazio per lo sport, la partita a Scudetto, Juve, le mosse di Sarri, favoriti i titolarissimi. Mertens in vantaggio su Midic. Così apriamo lo spazio dedicato ai titoli di sport per quanto riguarda i quotidiani nazionali. Partiamo dalla gazzetta dello sport, chiaramente in primo piano c'è la partitissima per lo Scudetto, giocatevelo così Allegri e Sarri. Juventus-Napoli un duello Scudetto per i due tecnici toscani che hanno vinto le ultime panchine d'oro. L'allenatore bianconero cambia e bada al sodo. Quello degli azzurri resta fedele al suo stile di calcio, stavolta è resa dei conti. Andiamo a vedere le altre notizie di spalla. Rossoneri in campo alle 20.45. Diavolo Gattuso, un girone è passato. Riecco il Benevento. Dalla rete del portiere nel pari del debutto alla gara di oggi a San Siro. Milan vivo, basteranno tre o quattro rinforzi per migliorare la squadra. Andiamo ancora avanti. Ufficiale a giugno l'addio, Wenger saluta l'Arsenal, un regno lungo 22 anni che ha cambiato la Premier. Wenger era praticamente diventato sinonimo di Arsenal, ma in Premier League accade spesso anche al Manchester United con Sir Alex Ferguson. Andiamo nel taglio basso, intervista al mito della palla a nuoto, Pizzo 80 da Caimano. Io, loro e bad, una vita da film. Proseguiamo con il Corriere dello Sport. Anche qui l'apertura è dedicata alla partita tra Juve e Napoli. Domani Juve e Napoli da Scudetto, Allegri e Sarri hanno scelto, giocano così. Vedete anche le due formazioni. Andiamo nel taglio alto, reportage martedì, semifinale Champions nel bunker Liverpool. L'ufficio di Klopp, i rituali di Salah, il nostro inviato, ci racconta i Reds. La carica di Di Francesco, Roma, devi solo vincere. Oggi assalto a Ferrara alle 15 per blindare il terzo posto. Nel taglio basso la storia. Wenger lascia il signor Arsenal, 22 anni, 17 trofei con i Gunners. Divorzio a giugno. Proseguiamo con tutto sport. Il patto anti-Napoli, Buffon-Higuain. Higuain, questo è il titolo sulla partita partitissima di domani. E poi Belotti, altro no al Milan. Il Toro respinge il nuovo assalto. La proposta rossonera, Cutrone, più 50 milioni. Emergenza per Bergamo. Mazzarri prova Bonifazi, terzino destro. Andiamo nel taglio basso per vedere le altre notizie. Milan e Fair Play finanziario, la resa di Fassone, la UEFA ci sanzionerà, speriamo non troppo. Tennis, Fed Cup, la Nuova Italia cerca il colpo contro il Belgio per il moto mondiale. Tra Vale e Marquez è subito Bagarre, Ducati che fatica. Questa era anche l'ultima prima pagina per questa prima parte della nostra rassegna stampa. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima andiamo a vedere però le previsioni meteo per le prossime ore. Poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo dunque ai giornali regionali. Apriamo le pagine interne. Partiamo dal primo piano del quotidiano Il Centro. La salute del mare, i prelievi in Abruzzo, il divieto di bagni in 12 punti della costa, in 7 casi il divieto è permanente. Per gli altri ci sarà la prova d'appello. Ma le prime analisi che pubblichiamo sono già buone. Sono 46 su 114. Sono stati tutti campionati i vari punti. Ma chiaramente si stanno svolgendo ancora le analisi. I dati completi saranno disponibili tra poco. I divieti di bagnazione del 2018. Eccoli qui Giulianova, Pescara, nella zona di Via Galilei, Via Balilla, poi Francavilla e D'Ortona. I permanenti sono a Martinsicuro, alla foce del Vibrata, a Roseto, alla foce del Tordino, a D'Ortona, a nord e a sud della foce del fiume Foro e poi alla foce del fiume Areelli, a San Vito, a Fosso Cintioni e alla nord della foce del fiume Feltrino. Dunque questi al momento sono i divieti. L'Arta ha messo in campo i suoi 32 esperti per condurre i campionamenti. Ma chiaramente non c'è solo il mare, come ci ricorda anche il giornale, ma sono diverse le attività che svolge l'Arta, anche bussi, cetacei e controllo del miele. Possiamo andare a vedere insieme il servizio sulla conferenza stampa che c'è stata ieri in direzione generale all'Arta per spiegare come vengono condotte le analisi e chiarire anche maggiormente che cosa accade in caso di vieto di balnazione. Sentiamo. Con l'avvio della stagione balneare il prossimo 1 maggio entra nel vivo anche l'attività di monitoraggio delle acque da parte di Arta, con i campionamenti già iniziati lo scorso 15 aprile e dei quali si iniziano ad avere i primi risultati. Nel complesso assicurano i tecnici la qualità delle acque è buona nei 126 chilometri di costa, suddivisi in 119 punti di campionamento, 5 in più rispetto allo scorso anno. Certo permangono le situazioni difficili, alcune storiche, soprattutto nei pressi delle foci dei fiumi, a partire dal Pescara, ma non solo. Ad oggi, temporaneamente chiusi, risultano 5 punti, Giulianova, nord del Tordino, Pescara nei tratti di Via Galilea e Via Balilla, Francavilla, sud di Fosso San Lorenzo ed Ortona, nord di Fosso Cintioni, dati comunque parziali, come detto, in attesa delle ultime analisi. I punti quelli attenzionati, diciamo, che sono alcuni anche temporaneamente vietati alla balneazione e più alcuni punti che sono di nuova individuazione, quindi non hanno un dato storico per essere classificati, sono attenzionati due volte al mese e sono, per quanto riguarda l'anno 2018, sono 5, mentre nell'anno 2017 ne erano 11. Quindi c'è stato un netto miglioramento. Il cittadino, comunque, dicono i vertici di Arta, potrà essere sempre aggiornato grazie al sito di Arta, con i dati online e anche sul portale delle acque ministeriale. Online si potranno anche fare le segnalazioni. L'attività di Arta, questo è noto, non si limita solo alla balneazione, ci sono novità anche sulla discarica di bussi, il cui iter per la bonifica prosegue. Arta ha concluso le sue attività. In questo momento, in questi ultimi mesi, siamo stati impegnati con il ministero che ha aperto ben tre conferenze di servizi propedeutiche alla bonifica del SIN di bussi. Arta ha valutato il progetto prodotto dalla ditta e trasmesso dal ministero. C'è stata un'attività lavorativa molto importante. Abbiamo ripetuto cambiamenti e analisi, valutato attentamente il progetto da parte dei miei colleghi del distretto di Chieti che approfitto per ringraziare che hanno dato un contributo notevole e posso dire con soddisfazione che tutte e tre le conferenze di servizi aperte dal ministero per le attività di competenza di Arta sono state interamente concluse. Abbiamo espresso il nostro parere favorevole e condizionato. È possibile visionarlo dal sito del ministero e nei prossimi giorni lo pubblicheremo. Per questa fase l'attività di Arta è terminata. La fatta è propedeutica, l'approvazione del progetto di bonifica. Sulla pagina Abruzzo della città e la presidenza del Consiglio dei Ministri ancora in corso di pubblicazione. Poi da Pescara medicinali venduti come sostanze per sbiancare la pelle. Nel taglio basso ritroviamo i dati dell'Arta. Costa balneabile per il 99%. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo del messaggero. La neve di primavera si scia con il Giro d'Italia. Piste aperte il 13 maggio. Il Gran Sasso tenta il rilancio dopo una stagione nerissima. Gli operatori turistici sperano in una boccata di ossigeno. E poi sci alpinismo, la via stretta tra divieti e libertà. Andiamo, anzi, torniamo sul quotidiano Il Centro. Sempre nelle pagine di primo piano. Fondi per i grandi appalti. Pista più lunga all'aeroporto d'Abruzzo. Firmata una convenzione da oltre 18 milioni di euro. A lavori ultimati a Pescara potranno fare scalo anche voli intercontinentali. Nel frattempo ci sono dei cambiamenti in saga. Mattoscio va via a fine mese. In CDA entra la giovane ingegnere Davoglio e ci sono anche le trattative per il nuovo presidente della saga. E allora noi andiamo a vedere insieme anche questo servizio. Sarà nominato il 30 di aprile il nuovo presidente della saga, società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. La riunione è stata fissata ad un mese esatto dalle dimissioni per certi versi ancora misteriose date il sabato santo dall'ormai ex presidente Mattoscio che più volte dietro le quinte aveva manifestato la volontà di lasciare l'incarico. Il presidente della regione D'Alfonso questa mattina ha tracciato l'identikit del nuovo capo di saga che combacia alla perfezione con il nome che circola negli ambienti vicini al presidente, cioè quello di Silvio Maresca, imprenditore noto a livello nazionale e internazionale e attivo nel settore turistico con la catena Blu Serena. Il 30 di aprile alle 7 di mattina faremo l'assemblea dei soci e verrà nominato un nuovo presidente del Consiglio d'amministrazione, verranno nominati i consiglieri d'amministrazione, alcuni confermati e ci saranno nuovi ingressi. Quello che posso dire è che il nuovo presidente è uno dei nomi che più ha aiutato il turismo nazionale, avendo anche incarichi a livello nazionale sul piano della promozione turistica. Posso anche anticipare che l'ingegnere Velina Davoglio entrerà in Consiglio d'amministrazione anche perché lavora in regione ed è una delle poche in Italia che è specializzata in ingegneria dei trasporti. Intanto, sempre questa mattina, sono state poste le firme sullo stanziamento da 18 milioni e mezzo di euro. 7,5 andranno all'allungamento della pista dello scalo aeroportuale abruzzese, la restante parte al progetto di collegamento dell'aeroporto con la ferrovia. Sono 18 milioni e 350 mila euro per consentire l'allungamento della pista, il tunnel pedonale di collegamento tra lo scalo aeroportuale e la fermata ferroviaria. E all'interno di questi due importanti investimenti stiamo cercando anche i materiali migliori che verranno definiti al momento del capitolato di gara d'appalto e poi naturalmente anche nella interlocuzione con l'esecutore. Notizia che abbiamo già visto, quella dell'Arta che ritroviamo nell'apertura delle pagine di Pescara sul Messaggero. L'Arta, mare inquinato in due zone dai punti storici di prelievo di Via Galilea e Via Balilla arrivano le prime brutte notizie per la stagione balneare, quindi un pezzo più incentrato sulla situazione di Pescara. Il direttore Chiavaroli pensa positivo la situazione è migliorata, solo 5 criticità lungo la costa abruzzese firmati di vieti di balnazione, ma Alessandrini confide in un recupero per i tuffi. C'è tempo. Andiamo ancora avanti con le pagine di Pescara del Messaggero. Ecco i farmaci sbiancapelle, maxi sequestro della Guardia di Finanza, i falsi cosmetici, sono illegali e pericolosi. 5 commercianti stranieri denunciati, prodotti importati clandestinamente sono molto ricercati dagli immigrati. E poi mountain bike rubata nell'auto, due arrestati dopo l'inseguimento, la coppia in fuga ha tentato di speronare i carabinieri. Nella pagina successiva, annegati nel fiume Orta, due imputati, chiusa l'inchiesta contro il sindaco di Caramanico Simone Angelucci e il direttore del parco della Maiella, Oremo Di Nino. In arrivo la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo, il primo maggio di un anno fa, la morte di una coppia di Pineto. A base dell'accusa, la mancanza di misure di sicurezza in una zona ad alto rischio, in passato ci sono state altre tragedie, ricorda il messaggero. Andiamo sul quotidiano Il Centro, nella pagina Abruzzo troviamo l'economia e lo sviluppo, il Banco BPM incontra gli imprenditori, strategie dinamiche dell'istituto che approde in Abruzzo, obiettivo, facile accesso al credito per le aziende locali. Nell'apertura invece della pagina di Pescara, vigili sui bus per multare gli automobilisti incivili, la Polizia Municipale viaggerà sui mezzi tua armata di street control per punire la sosta selvaggia in doppia fila e di fronte alle pensiline. Dunque questa è l'iniziativa per combattere l'inciviltà. Tonelli serve un piano traffico che funzioni, Alessandrini chiede ai cittadini collaborazione, poi gli ostacoli per i mezzi pubblici, un varco antimacchine all'ingresso del terminal. La telecamera incastrerà gli automobilisti che ignorano il divieto di transito, la segnaletica scolorita sarà ripristinata, servono anche panchine per i viaggiatori. Proseguiamo la tragedia di Caramanico, abbiamo visto anche sul messaggero coppia negata nell'orta, sono due gli indagati e poi la paura in strada, in seguimento sulla Tiburtina, due gli arresti. Anche questa notizia l'abbiamo già vista sul messaggero e dunque andiamo rapidamente avanti. Omicidio neri in procura, lo zio e il cugino Lamaletto. Da settimane gli investigatori aspettavano il rientro dei due imprenditori in Italia, ma ormai le indagini dei carabinieri sono focalizzate sui giri di soldi di Alessandro. Comunque questa mattina, salvo sorprese dell'ultimo minuto, ci saranno gli interrogatori di Camillo e Gaetano Lamaletto, zio materno e cugino di Alessandro Neri. E poi l'organismo del Ministero, presutti nel Consiglio Scientifico del Centro per il Libro e la Lettura, ieri il Presidente D'Alfonso nell'ambito della conferenza stampa sull'aeroporto ha fatto questo annuncio. Via Sacco, nuovo sgombero, siringhe rifiuti, anche un disabile tra i quattro accampati mandati via dai vigili. Questa è l'operazione portata a termine a Pescara. Nella pagina successiva, voto RSU, stravince la UIL, cresce la CISL, crolla la CGL, rinnovate le rappresentanze sindacali nelle pubbliche amministrazioni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, in provincia, alla Regione e all'Inps. Andiamo ad aprire la pagina di Montesilvano. Sequestrate 650 creme sbiancanti vietate, la Guardia di Finanza in cinque negozi gestiti da extracomunitari, tutti denunciati, vendevano medicinali non autorizzati. E poi, volantinaggio e appelli per la farmacia comunale, scarsa affluenza, l'Assemblea non ferma, il gruppo Siamo Città Sant'Angelo, e il capogruppo Perazzetti chiama a raccolta la città, il 26, tutti in consiglio. Nella pagina successiva ci spostiamo a Francavilla, l'erosione cancella file di ombrelloni, allarme in centro, alla sirena, i bagnatori, il mare continua ad avanzare, le spese per il ripascimento morbido sono a carico nostro. nella pagina della Val Pescara, bonifica di Piano d'Orta, si allarga l'area dei veleni, tavolo tecnico in regione, si va verso la riperimetrazione del sito contaminato, De Santis, valori ben oltre i limiti di legge per arsenico piombo e rame. Scendiamo, statale Popoli Corfinio, lavori fermi da otto anni, e poi oggi riapre la strada della Valle del Tavo, a Loreto, a Prutino. Andiamo ad aprire invece la pagina di Pescara, scusate, di Chieti, preso il rapinatore seriale, schiaffi in faccia alla commessa, è stato arrestato, scoperto l'autore dell'assalto a Lucia Rosticini, e lo stesso bandito già accusato dei colpi a ripetizione nelle parafarmacie. Poi ancora la cronaca, schianto frontale, un morto e due feriti, tragedia a Chieti, la vittima e un cinquantenne su una Smart Gravi, un 26enne di tocco, è l'autista del camion. Ancora studente malmenato, episodio isolato, ragazzi dell'alberghiero di Villa Santa Maria arrestati, la preside, provvedimenti disciplinari e tempestivi, si torna sul caso di bullismo, sul quale i carabinieri hanno effettuato due arresti di due minori, quattordicenni. E poi andiamo ancora avanti, sempre nelle pagine di Chieti, sul quotidiano Il Centro, vasto, viadotto, istonium, gravi due ragazze travolte sulle strisce, hanno 13 e 14 anni, stavano attraversando la strada, sono state trasferite entrambe a Pescara, la prognosi è riservata. Andiamo ancora avanti, la tragedia ad Orsogna, si ribalta col pulmino e muore a 44 anni, autista del Napoleone di Ortona, perde il controllo della vettura, forse per un maolore, e si schianta contro gli alberi. Scendiamo, andiamo a vedere ancora la cronaca, sgominata la baby gang che ruba sigarette, a Fossa Cesia, sei minorenni, a segno nove volte in meno di un mese nei distributori automatici. Possiamo andare a vedere insieme il servizio. Una baby gang di una decina di giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni è stata sgominata dalla polizia stradale di Lanciano con un'operazione coordinata dal sovrintendente capo del distaccamento Renato Menna. Il gruppo era dedito al furto di sigarette a Fossa Cesia, in particolare una cellula di 4-5 ragazzi si era specializzata nello scasso dei distributori automatici. Dal mese di marzo e fino a metà aprile la baby gang aveva agito in almeno nove occasioni, tante quante sono quelle accertate con le indagini della Polstrada. Collaudato il modus operandi, agivano di sera tra le 9 e le 10 e ognuno aveva il proprio compito. C'era chi riparava gli altri dall'occhio indiscreto delle telecamere di videosorveglianza, chi invece aveva affinato la tecnica dello scasso forzando la parte inferiore del distributore automatico per poi asportare i pacchetti di sigarette dalle file inferiori. In tal modo la baby gang riusciva a raccimolare fino a 30-40 pacchetti di sigarette per un totale di circa 400 nei furti accertati. Il bottino complessivo si aggira intorno ai 1500 euro. Della baby gang due sono i minori finora identificati, italiani, entrambi sono stati denunciati alla procura del Tribunale dei Minori dell'Aquila. Gli altri componenti della baby gang sono in attesa di completa identificazione, dichiara il sovrintendente Menna, ma sono tutti italiani. Le sigarette venivano poi smerciate all'esterno delle scuole di Lanciano. In apertura della pagina di Chieti sul messaggero i conti del comune al collasso dell'Io Lascia così il mio ruolo è inutile. Di Iorio del PD, oramai di Sesto c'è e la città è allo sbando. Di Primio Lasci, i consiglieri 5 Stelle commentano comune in crisi, nessun ufficio in grado di funzionare. zero documenti, assenze di peso in commissione bilancio e il presidente ieri si è dimesso. E poi Chieti Solidale, niente stipendi, Marzoli è un fatto gravissimo ancora per la politica teatina. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire le pagine di Teramo. Contestati i bandi del comune per gestire parcheggi e palasport. Appalti nella bufera, CGL CISL contro la gara per le stisce blu saranno impiegati solo 9 operatori rispetto agli attuali 28. Canzio si regalano gli impianti sportivi ai privati per 20 anni massacrando le società dilettantistiche. La replica immediata del commissario all'esponente della Lega con i nuovi criteri per l'affidamento delle strutture sportive l'ente avrà enormi vantaggi economici. Intanto, sempre il commissario ha approvato il nuovo regolamento per le sale da gioco e lotta alla ludopatia. Andiamo nel taglio basso, ricostruzione, l'Ater assume 8 impiegati. Il commissario dell'azienda incontra gli sfollati del sisma e dice che i ritardi non sono colpa dell'ente. A Crogna Leto, posata la prima prieta della nuova scuola di Tottea con i fondi dell'Emilia Romagna. Il giallo della pittrice Rapposelli. I santoleri devono restare in carcere. Il Tribunale dei Riesameri spinge la richiesta di libertà per padre e figli accusati di aver ucciso la donna a Giulia Nuova. e poi la sede, l'asle di Teramo a caccia di chirurghi emanato un nuovo avviso pubblico per l'assunzione urgente di specialisti a tempo determinato. Nel taglio basso, la truffa delle moto chieste 19 condanne, l'accusa e un giro di false rottamazioni per ottenere incentivi imputati, concessionali e clienti. Prima di andare sulla pagina dell'Aquila del centro andiamo su quella di Teramo del messaggero ticket, l'asle dichiara guerra a 1200 furbetti dell'esenzione cresce il numero di chi non ha diritto a questo tipo di agevolazione tutti stanati dall'Agenzia delle Entrate dopo le verifiche dei redditi ridichiarati e poi parcheggi che stangate in centro ecco le tariffe rabbia dei sindacati contro il nuovo bando del taglio basso travolto dallo scooter muore dopo un mese di agonia su Facebook la protezione civile di Maltignano scrive lo ricorderemo con noi tutte le volte presente Giovanni Celani aveva 47 anni nella pagina successiva il giallo Rapposelli Santolerincella traditi dai reclusi il riesame era espinto alla richiesta di scarcerazione presentata dai difensori di padre e figlio accusati dell'omicidio Rapposelli tre i detenuti che avrebbero raccolto lo sfogo di Simone con quel ravvedimento che aggraverebbe la sua posizione poi Giulia Nova violenza carnale vice parroco assolto andiamo adesso sulla città per vedere le altre notizie dal Teramano torniamo nel capoluogo emergenza chirurghi negli ospedali Teramani aspettando il concorso l'Az cerca a tempo determinato specialisti per garantire i turni nelle sale operatorie poi l'incidente il primo maggio abbiamo già visto a Piano d'Orta due gli indagati per la morte dell'infermiere del marito e poi la Tercop protesta contro la gara taglia posti di lavoro giovedì i sindacati si mobiliteranno per tutelare i soci della cooperativa sociale per la Lega il Molise è più importante di Teramo attesa per l'esito dell'incontro tra il deputato Bellachioma e il suo tra virgolette capitano Salvini in tour elettorale andiamo ancora avanti è il giorno della verità per Giovanni Cavallari PD ancora speranzoso sulle primarie ma il vigile del fuoco conferma che oggi presenterà il suo programma nuove regole per le sale da gioco la lotta alla ludopatia con il regolamento varato dal commissario e poi l'Ater assume otto tecnici per la ricostruzione ieri l'incontro con il neocommissario Nicola Salini e ancora la cronaca rottamazioni truffa chieste 19 condanne sentenze in arrivo per i titolari di Wills un rottamatore di Campi i clienti che avevano acquistato con l'incentivo ci spostiamo in provincia investimento da 30 milioni e 50 assunzioni il piano industriale per lo stabilimento Lazzaroni di Isola illustrato durante la visita del commissario straordinario per la ricostruzione De Micheli andiamo ancora avanti muore un mese dopo l'investimento abbiamo già visto la vittima dell'incidente Giovanni Celani il magistrato di turno Andrea De Feis ha aperto un fascicolo e ha disposto l'autopsia sul corpo il giallo di Renata Rapposelli niente scarcerazione per i santoleri gli esami il tossicologo Frison ha escluso che la pittrice possa essere stata uccisa con del veleno questa la novità e poi nel taglio basso anche lo stalker armato fino ai denti resta dietro le sbarre era stato arrestato lo scorso 19 di marzo andiamo ancora avanti torniamo sul quotidiano il centro andiamo ad aprire adesso la pagina dell'Aquila le tasse da restituire la sentenza tar nega la sospensiva non c'è l'urgenza perché c'è il decreto del consiglio dei ministri e poi addio Fainella preside politica ex dirigente del classico aveva 79 anni nella pagina successiva SNAM è il giorno della mobilitazione il no alla centrale e al gasdotto ultimi appelli alla partecipazione il sindaco annuncia l'adesione di oltre 50 amministratori del comprensorio il corteo città blindata e centro storico chiuso alle auto per questa grande manifestazione nel taglio basso l'insegnante muore a 36 anni e dona le sue corne andiamo ad aprire la pagina dell'Aquila sul messaggero eccola qui tasse il tar respinge il ricorso ma elimina il termine di un mese non ha la richiesta di sospensiva il provvedimento è ancora in corso nessuna sanzione per le imprese che non rispetteranno i 30 giorni e poi nella pagina successiva autonoma sistemazione ritardi e proteste pagamenti fermi al mese di agosto anche per gli affitti e rimborso traslochi nella pagina successiva quella della provincia la Health Foundry nei laboratori del Gran Sasso l'azienda annuncia decisive ricerche sulla materia oscura con forti impegni in campo internazionale sventite così le voci di un ridimensionamento intanto però si consiglia ai dipendenti di smaltire le ferie e poi la manifestazione di Sulmona tutto pronto per questa grande mobilitazione andiamo nel parco nazionale orso morto insorgono gli animalisti il WWF chiede al PNALM di sospendere o ridurre al minimo catture e sedazioni e così andiamo allo sport apriamo la pagina dedicata alla serie B sul quotidiano il centro domani Pescara Spezia contro i Liguri in difesa spazio a Fiamozzi Balzano e Perrotta in attacco Capone titolare Mancuso e Falco in Lizza per una maglia ma il titolo di giornata è Campagnaro che chiude il campionato in anticipo nuova lesione al polpaccio destro stagione finita per il 37enne difensore argentino andiamo a vedere le altre notizie di sport sul centro San Domenico fa ricorso il Teramo spera di riaverlo siamo alla serie C Biancorossi che osservano un turno di riposo la prossima settimana appello l'appello contro i sei turni di stop oggi la vastese a campo basso ridotta la squalifica di Fanti nella pagina successiva Teramo Campli in palio un posto nei playoff basket di Serie B domani chi vincerà al Palas Capriano accederà alla seconda fase l'amatoria Civitanova per blindare il quarto posto Giulianova invece cerca la salvezza per il calcio a 5 tolta la squalifica a Matirosa il caos al quarto posto per la palla a mano Lions Teramo battere l'Eppan per sperare ancora nella salvezza e nel taglio basso l'Aquila Rugby quasi un amichevole a Prato anticipo della penultima di campionato di Serie A con i neroverdi senza più obiettivi da inseguire andiamo a vedere i titoli di sport anche sul messaggero ripartiamo dal Pescara Pescara una difesa con la Brodo mai avuta è sempre stato il tallone d'Achille sin dai tempi del primo Zeman del 2012 ma i 60 gol subiti sono un record l'ex colonnello dice troppi punti sprecati e poi i protagonisti di Liberatore in Juve Napoli Scudetto in Salsa Abruzzese e poi ancora l'Aquila imprenditori locali più vicini per il momento resta la massima cautela tratteranno Contiberio Gullini il delegato della vecchia proprietà nella pagina successiva il titolo sul Teramo tifosi tutti affano panico in under 20 i supporter del Teramo si stanno mobilitando per il big match salvezza l'attaccante tra gli azzurrini non rientra fino al prossimo giovedì e poi andiamo a vedere la Vastese a campo basso è già spareggio per i playoff oggi l'anticipo ma i biancorossi devono vincere per il basket di A2 Sharks che è impresa allenarsi senza sede gli internazionali di tennis Travaglia e Sosa da battere a Francavilla inizia il challenger d'Abruzzo c'è anche Rosol ex top 30 tra sport e turismo andiamo nel taglio basso l'Aquila gioca oggi a Prato non c'è più nulla da chiedere al campionato per quanto riguarda il rugby concludiamo con il titolo che riguarda invece lo sport della città febbre da derby domenica Teramo Campli e il titolo che apre le pagine di sport Ruscitti un bravo sceneggiatore non avrebbe fatto di meglio Salamina riscattare l'andata una promessa alla città intervista al presidente del sodalizio Biancorosso a poche ore dalla gara del Palas Capriano la rivalità con Campli è storica rinforzeremo la società per essere riferimento della provincia e poi ancora il basket match point per Giulianova la salvezza con Val di Ceppo dopo la vittoria della scorsa settimana i giallorossi possono ipotecare la permanenza in Serie B con un buon risultato ed era questa l'ultima notizia della nostra rassegna stampa io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina vi ricordo gli appuntamenti con la nostra informazione alle ore 14 alle 19 e alle 23 con il TG6 è davvero tutto mattino 6 torna lunedì mattina alle ore 8 grazie ancora e buona giornata e buon weekend grazie a tutti